Dove sono? Dov'è mio padre? Non è qui. È andato a uccidere la principessa Angie. Stai mintendo. Non farebbe mai male alla principessa. L'odio e la vendetta non sono i soli motivi per cui un uomo uccide. Per esempio, l'amore per un figlio. In qualità di strega dovresti saperlo. Dovresti sapere quant'è tevole l'umanità. Ma come fai a saperlo? Solo i miei genitori dovrebbero saperlo. Non puoi nascondere la verità a un altro strega. Questa reliquia non è altro che un figillo. Allora? Allora perché stai dalla parte di Zauber? Le parole sono così coffe. Ecco, lascia che ti mostri. Ecco, sei pronto? Reus! Cosa? Papà? Papà, svegliati! Reus! Hai rotto l'incantesimo. Sei di nuovo tu! Papà! Come? Oh, cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Dove? Cosa è successo? Mio... Mio padre? Tu... Sei tu, Grant. Ti prego. Porta Reus via di qui. In un luogo sicuro. Papà! Non preoccuparvi. Sarà il sicuro con me. Grazie. Reus. Assomigli così tanto a tua madre. Papà! Papà! Papà!